Gaza, centinaia di morti dopo l'attacco all'ospedale. Il segretario ONU, attacco di Hamas, non giustifica punizione collettiva del popolo palestinese. Tensioni al confine con il Libano, massiccia mobilitazione dell'esercito israeliano nell'area. Aumenta la pressione sui leader internazionali per ottenere il rilascio degli ostaggi in mano a Hamas. I familiari protestano. Centinaia di persone sono morte in seguito a un'enorme esplosione causata da un razzo nell'ospedale Hal Hali di Gaza City. I morti e i feriti sono stati trasportati di corsa dall'ospedale per essere presi in carico dal personale medico già esausto dell'ospedale Al Shifa. L'ambasciatore palestinese alle Nazioni Unite ha denunciato Israele come responsabile per l'attacco. Israele sostiene che a essere responsabile sia invece la jihad islamica a causa di un presunto lancio di missili fallito. Il presidente Joe Biden era già in viaggio ma il presidente palestinese Mahmoud Abbas ha già concordato con la Giordania e l'Egitto di cancellare il vertice A4 con il presidente statunitense. Il presidente del Consiglio europeo ha condannato l'attacco all'ospedale in quanto illegale. Dopo l'attacco gli aerei israeliani hanno continuato a colpire Gaza durante le prime ore del 18 ottobre causando almeno 37 morti nel campo profughi di Jabalia. In precedenza sono morte almeno 6 persone in seguito al bombardamento di una scuola gestita dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Il segretario generale dell'ONU ha affermato che gli attacchi di Hamas del 7 ottobre non possono giustificare la punizione collettiva del popolo palestinese. Nel nord di Israele i residenti dei villaggi più vicini al confine con il Libano si stanno preparando al peggio. Molti stanno partendo per andare verso Gerusalemme. Il Ministero della Difesa israeliano ha infatti ordinato a 28 comunità entro due chilometri dal confine con il Libano la cosiddetta linea blu controllata dalle Nazioni Unite di evacuare dall'area. Oltre il 60% della popolazione è già partito. Dall'inizio della guerra la tensione qui è cresciuta. Le basi militari sono off limits per le telecamere ma la mobilitazione delle truppe israeliane è massiccia. Le fazioni libanesi di Hezbollah sparano quotidianamente come avvertimento contro una possibile invasione terrestre della striscia di Gaza da parte di Israele. Un riservista presso una stazione di servizio è uno dei pochi soldati disposti a parlare. Nella vicina città di Shilomi il livello di ansia ha raggiunto un nuovo picco per coloro che stanno ancora aspettando di essere evacuati. Smulikasher e Galitasher Elbaz sono una coppia che vive nella città. Dicono di non riuscire a dormire, ogni rumore li fa sorbalzare. Hanno paura per i bambini. Dall'inizio della guerra, dieci giorni fa, molti presunti terroristi avrebbero attraversato il confine. Aumenta la pressione sui leader internazionali per ottenere il rilascio degli ostaggi in mano a Hamas. Martedì una ventina di familiari dei tedeschi detenuti a Gaza si sono radunati davanti all'ambasciata a Tel Aviv all'arrivo del cancelliere Olaf Scholz, esortato a mettere tutte le sue forze nella loro liberazione. Tra loro Riccarda Lucch, la madre della ragazza tedesca inizialmente data per morta da un video che circolava online. L'ultima informazione è che sua figlia ha una ferita alla testa e si trova in un ospedale di Gaza. Nel frattempo la madre della 21enne israelo-francese Maya Shem ha reagito al video della figlia diffuso da Hamas che dimostra che è viva. Il video è il primo che il gruppo militante ha fatto. Il gruppo militante ha diffuso delle persone che sta trattenendo. Lunedì l'esercito israeliano ha dichiarato che gli ostaggi portati a Gaza sono 199, più di quanto stimato in precedenza. Hamas ha detto di avere tra 200 e 250 ostaggi. Il presidente cinese ha invitato il suo omologo russo a compiere sforzi congiunti per salvaguardare la giustizia internazionale. Xi Jinping e Vladimir Putin si sono incontrati nel primo giorno dell'iniziativa sulla nuova via della seta a Pechino, dove il leader russo si è recato nonostante il mandato di arresto emesso dalla Corte Penale Internazionale. L'esercito è un'attività internazionale. L'esercito è un'attività internazionale. L'esercito è un'attività. C'è anche l'aerea internazionale. Ho riuscito a colpo di av generationali per perdere la vostra vallazione di arriv立za per la sua legirlazione. Ho riuscito aissaare tra le loro contrari bene la settimana. Ho riuscito a Capità della Sådana e l'esercito internazionale. Ho scelto di Evocle- Trovallosi e a Bechino a G missioni. All'inizio del forum Xi Jinping ha promesso di migliorare l'accesso al mercato cinese per le aziende straniere e distanziare più di 100 miliardi di dollari in nuovi finanziamenti per i paesi in via di sviluppo. E' questo il bar del quartiere Scarbeca, Bruxelles, dove il terrorista Abdeslam, la Sued, è stato colpito a morte dalla polizia diverse ore dopo aver ucciso due cittadini svedesi nella capitale belga. Sul marciapiede sono ancora visibili i segni che indicano il foro del proiettile. A Scarbeck, quartiere con una forte presenza di immigrati o discendenti arabi e turchi, i residenti sembrano molto toccati da quanto accaduto. Depuis 6 ore 20 del mattino, sono passato a dormire, ho avuto un'anguisse, ho avuto molto peor, ma è tutto. L'attacco della Sued sembra essere un episodio isolato. Secondo il ministro della giustizia belga, non ci sono indicazioni dell'appartenenza dell'uomo a una cellula terroristica. L'esperto di terrorismo Claude Monique ritiene che i paesi dell'Unione Europea dovrebbero prendere seriamente in considerazione il rischio di altre azioni simili. Io penso che all'allero avere una vague di terrorismo nel mondo. Ci può essere in Europa, c'è in Europa oggi, c'è in Francia e in Belgia, ci può essere domani, ci può essere domani, ci può essere n'importe qui. Ma c'è un choc terrorista che va a seguire ciò che si succede nel Medell'Orient. Ciò che si succede in Israele è una nuova motivazione, è una nuova incitazione che permette di far riuscire e di aumentare il djihad. Ma fondamentalmente bisogna comprare che l'islam radicale è il problema di base e che il terrorismo è solo un utile che riuscire quando ha un buon pretexto per riuscire. Tuttavia, spiega l'esperto, è più difficile che si verifichino grandi attacchi coordinati, come quelli avvenuti a Parigi nel novembre 2015 o nella stessa Bruxelles a marzo 2016. Più probabili azioni terroristiche da parte di singoli individui. Quindi oggi ci sono più dei attentati individui, o dei attentati in tutte piccole cellule, familiare o amicale. Mogoschkov, l'uomo che è attacato a Arras, ha lavorato con il suo figlio, un figlio, un figlio, un figlio, un figlio, un figlio, un figlio, che è già in prison. C'è questo tipo di cose che si può vedere, che si può vedere, e che è molto difficile a contrarre, perché i servizi di riuscire possono attaccare a un réseo, perché in un réseo bisogna di comunicare, bisogna telefonare, bisogna cambiare email, bisogna incontrare. Se lavorate a preparare un attentato con il vostro frate, nessuno ne va a vedere. Per prevenire le minacce, comunque, i governi europei dovrebbero intensificare la raccolta e lo scambio reciproco di informazioni nel prossimo futuro. Il repubblicano Jim Jordan non passa la prima votazione per l'elezione a presidente della Camera dei rappresentanti negli Stati Uniti. Nonostante l'intensa attività di lobbying, 20 repubblicani si rifiutano di sostenere il deputato conservatore dell'Ohio. Mercoledì è prevista una seconda votazione. La Camera bassa del congresso non ha più alcun presidente, da quando Kevin McCartney è stato estromesso due settimane fa, proprio a causa dei suoi compagni di partito. La Fiera del Libro di Francoforte apre le porte al pubblico questo mercoledì. L'agenda della 75esima edizione vuole riflettere le crisi attuali del mondo, dalla guerra in Ucraina al conflitto israelo-palestinese. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha annullato la sua partecipazione alla cerimonia di apertura a causa di un breve viaggio in Israele e in Egitto. Al suo posto la Ministra della Cultura ha sottolineato l'importanza della diversità e della libertà di pensiero. La Slovenia è l'ospite d'onore di quest'anno con un proprio padiglione, uno spazio che mostra come la storia influenzi la letteratura. Ha fatto scalpore il discorso inaugurale del pensatore sloveno Slavoj Žižek, che dopo aver condannato l'atroce attacco di Hamas, si è concentrato sulla critica a Israele.